L'ultimo sole d'estate accoglie al battaglia Bustese, Roncalli e Seriti per la quarta giornata del Girone Viti Serie D 2015-2016. Al trentaquattresimo minuto di gioco Cavallini porta in vantaggio così il Serenio. Il raddoppio del Serenio arriva allo scadere del primo tempo con Scappini. La Bustese tre minuti prima era rimasta in dieci per il doppio giallo a Fulcia. Nel secondo tempo solo recriminazione in casa Bustese e Roncalli. La formazione di Cavicchia termina addirittura in nove l'incontro per questo rosso diretto a Misceglia. Serenio batte Bustese 2 a 0.